Ancora una volta un incidente stradale lungo la 2 del Mediterraneo. Ieri sera due veicoli si sono scontrati in direzione nord tra gli svincoli di Sala Conselina e Padula. Nell'impatto sono rimaste ferite tre persone, una delle quali in modo grave, e anche due bovini. Infatti, tra i veicoli che sono involti nello scontro, anche un mezzo ha debito al trasporto di animali. I feriti sono stati portati al pronto soccorso di Luigi Curto di Polla e uno dei tre, come detto, è in condizioni gravi ma non è in pericolo di vita. Sul posto immediato l'arrivo da parte della polizia stradale di Sala Conselina, dei tecnici dell'ANAS per ripristinare il tratto stradale e del personale sanitario del 118 che ha prestato le prime cure ai feriti. Sul posto anche i veterinari per verificare le condizioni dei due animali che non sono in gravi condizioni. Il traffico è rimasto bloccato per diverse ore.